Benvenuti a tutti. In questo emozionante video, vi anticipiamo un evento straordinario che agiterà profondamente la vita della famiglia di Fekeli. Prima di continuare, se volete, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni. In una giornata come tante altre, la dottoressa Mugeigan riceve una proposta di lavoro in un ospedale di Istanbul. Nonostante ami il suo attuale lavoro e goda di una vita piuttosto serena, decide di prendere in considerazione l'offerta. Ha al suo fianco Fikret, ma la loro relazione comincia a incrinarsi quando Mugeigan scopre che il ragazzo è coinvolto in un incidente domestico che rischia di costare la vita ad Umit. Fikret tiene all'oscuro Mugeigan dell'incidente, ma quando la verità viene alla luce, la donna perde completamente la fiducia in lui e lo lascia. Prima di partire per Istanbul, però, decide di mettere alla prova Fikret, osservando ogni suo movimento. Nonostante la loro separazione, Fikret sembra non avere alcuna intenzione di cambiare, e questo porta alla fine della loro relazione e alla scelta di Mugeigan di accettare il nuovo lavoro. Fekeli, pur non essendo del tutto convinto, sostiene la decisione della figlia e si prende cura del suo nipotino finché non troverà una nuova casa. Nel frattempo, Fikret incontra nuovamente Umit e i due mettono in atto un piano di vendetta contro Demir. Alla fine, Mugeigan deve accettare la realtà e Fikret per quello che è, ma con il sostegno della sua famiglia, guarda con fiducia al futuro. Mugeigan una volta sistemata, tornerà a casa, a riprendersi il suo bambino, ma qualcosa andrà storto. L'aereo sulla quale lei è diretta, cadrà, e lei perderà la vita. Poco prima di quell'evento Fedeli e Fikret, sono molto contenti del ritorno di Mugeigan, perché Fikret, gli vuole chiederle di sposarlo. Però la loro felicità viene placata dalla radio, perché sentono che l'aereo su cui viaggiava Mugeigan, è precipitato. Perciò dopo Anka Reilmaz, Fedeli, perderà anche Mugeigan e rimarrà solo. Inoltre il bambino sarà orfano di entrambi i genitori. Tutti si sentono in colpa per la sua morte, soprattutto Fikret, che non doveva tornare da Umit, ma doveva restargli più accanto. Un'altra tragedia si è consumata. Voi cosa ne pensate? Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, e attivate le notifiche per non perdervi le future anticipazioni di Terra Amara.